Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo alla stampante che non funzionano più i suoi driver oppure che la stampante non funziona proprio anche collegando questa stampante al computer quindi non dà segni di vita, quindi in questo caso in questi due metodi ti spiego come risolvere il problema quindi andiamo prima sulla barra della ricerca qua sopra, andiamo così a scrivere funzionalità facoltative con questo logo qua, con un più in alto a destra ci clicchiamo sopra, sul sistema funzionalità facoltative visualizza le funzionalità ed ecco qua tutti gli strumenti nuovi che possiamo aggiungere al nostro sistema operativo io ovviamente non ho problemi con la stampante perché se vai a vedere qua ci sono funzionalità trovate, quelle attive sul mio sistema gestione stampa, a cosa serve questa gestione stampa? Consente la gestione di stampanti, driver di stampanti e server di stampa e anche al funzionamento della stampante che quando la colleghi al computer poi risponde, quindi dà segnale quindi tu vai a scrivere su visualizza le funzionalità, vai a scrivere G, gestione stampanti io ovviamente non ce l'ho perché già l'ho installato, gestione stampanti e tu inserisci questa stampante qua se non dovesse funzionare, chiudiamo un attimo qua, andiamo su gestione dispositivi andiamo su gestione dispositivi ed eccola qua, code di stampa, code di stampa radice, microsoft print pdf, microsoft xps document writer questo qua, code di stampa radice, aggiungo a driver, cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili nel computer metto questo qua, faccio avanti, ha completato l'aggiornamento dei driver se vuoi aggiornare sempre di più i driver per la tua stampante c'è il driver, driver easy il programma driver easy che ti permette di scaricare e installare manualmente per quelli che vogliono la versione gratuita di installare manualmente un aggiornamento sulla stampante oppure poi passa direttamente alla versione pro questo è il driver easy, questo è l'ultima versione, l'ultima edizione qua con tutto, proprio con tutto, 99 dollari questo qua invece è quello gratuito, carichi, installi il programma, vado direttamente sul programma driver easy fai così la scansione per vedere quali sono i driver disponibili da aggiornare vado su aggiorna scendo fino a giù fino a trovare i driver che devo scaricare e installare io ovviamente non ho niente da aggiornare sulla mia stampante quindi vado sotto, 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 coda di stampa radice ed eccola qua che è aggiornato, ci clicco sopra e questo è il mio aggiornamento che ho fatto sulla stampante per farti vedere, quindi per farti un esempio su come installare questo aggiornamento sulla stampante per esempio prendo così un driver qualsiasi, per farti un esempio mi vado qua su aggiorna crea manualmente, faccio continua, mi scarica così il driver e faccio installa manualmente non posso fare quello automatico perché non è la versione pro quindi faccio installa manualmente e faccio continuo ed eccola qua mi esce così questa cartella faccio copia, copio così il percorso file vado su gestione dispositivi, coda di stampa radice, aggiorna driver esco il driver computer e inserisco così il percorso file che ho copiato in quella cartella con quei due driver, faccio avanti e installo così il driver della coda di stampa radice per farti solamente un esempio, quindi se tu trovi un driver della stampante qua scaricalo e fai come ho fatto io se non dovesse funzionare, prova a scollegare un attimo la stampante riavvia il sistema una volta aggiornato i driver tasto destra sopra, disabilita il dispositivo abilità dispositivo quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cerco di realizzare altre guide riguardo all'errore della stampante che non si avvia per colpa dei driver obsoleti e che non vanno più quindi grazie a tutti per questa visione iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao